Buonasera, e allora dopo Verdi, Handel, la toccata nel primo novecento con Granado, Seppuccini, Mozart. La stagione arriva a uno dei capolavori di Mozart, il primo titolo della celebre trilogia scritta con Da Ponte, Le Nozze di Figaro. Un nuovo allestimento prodotto dal teatro, peraltro grazie al sostegno di Reale Mutua, firmato dalla regista Elena Barbalic, scenografia di Tommaso Lagattola, pieno gusto settecentesco, classico. La compagnia vede in scena Vito Priante nel ruolo del conte, Carmela Remigio, che è stata più volte interprete di ruoli mozzartiani, in particolare in quelli della contessa, Mirko Palazzi nel ruolo del titolo, Caterina Bacanova e Susanna e Paola Gardina Cherubino. Sono molto contento che sia tornato a trattare di Mozart Ernesto Napolitano, che è stato docente nella sua vita, anzi nelle sue due vite, perché è stato docente di fisica teorica, prima di essere professore al Dams qui di Torino, da che venne inaugurato. Sono un po' in soggezione perché è stato anche il mio professore, però, come sapete, soprattutto ha pubblicato un volume fondamentale su Mozart, pochi anni fa, uscito per Einaudi, e vi anticipo che è invece di prossima uscita un nuovo libro su Debussy, di cui spero avremo occasione di parlare. Nozio di Figaro, opera complessa che si dà adito a essere trattata sotto molteplici aspetti, e per cui politici, filosofici, amorosi e quant'altro. E quindi gli cedo subito la parola e grazie davvero. Allora, grazie a Simone per questa... Io mi permetto di chiamarlo per nome, insomma, perché appunto è stato mio allievo, un bravissimo allievo, detto per inciso, come vi potete immaginare. Ringrazio, buonasera a tutti, ringrazio il Reggio per l'invito, ringrazio voi per essere qui, per una combinazione, credo, non voluta. La programmazione del Reggio ha percorso in questi ultimi anni la trilogia delle opere che Mozart ha scritto sul libretto di Daponte, a ritroso, e quindi nel XII mi pare c'è stato Così fa tutte, poi Don Giovanni, e adesso si torna alle Nozze di Figaro. Come sapete l'ordine di composizione invece è proprio il contrario, le Nozze di Figaro sono state composte per prima. Ritornare in questo percorso alle Nozze di Figaro, cioè al principio di questa trilogia, ci consente di ritrovare, dopo le dolcissime amarezze, chiamiamole così, di Così fan tutte, e dopo le oscurità, le inquietudini di Don Giovanni, ci consente di ritrovare quella che a me piace chiamare la trascendentale socievolezza mozartiana. Questa capacità di Mozart di mettere in relazione i suoi personaggi. Le Nozze di Figaro sono proprio l'espressione maggiore di questo, di questa grandissima capacità della musica di Mozart e del teatro di Mozart, di mettere in relazione fra loro i personaggi. Come vedremo, in questa serie di rapporti intersoggettivi su cui è governata la drammaturgia delle Nozze, si incontrano inganni, menzogne, sotterfugi, finzioni, però alla fine tutto si ricompone razionalmente, in spirito settecentesco, tutto si ricompone nel senso di una comunità e quindi nel senso di una socialità ritrovata. Questo fatto però senza impedire che nel corso dell'opera si siano potute manifestare delle personalità individuali, delle individualità. Poi, come sappiamo, l'opera successiva, Don Giovanni sarà il culmine invece dell'affermazione dell'individualità. La prima idea di che da La Folle Journée o Le Mariage de Figaro, che è il titolo della commedia di Beaumarchais, si sarebbe potuto trarre un buon libretto per un'opera, la prima idea è di Mozart stesso. Guardate, è una cosa curiosa, perché Le Nozze di Figaro sono l'unica opera che Mozart scrive senza commissione. L'idea non è un'opera commissionata da nessuno e anzi, ritornando al discorso che facevo all'inizio sulla trilogia, Le Nozze di Figaro sono quasi, a distanza di anni, l'opera che suscita in qualche modo prima Don Giovanni e poi così fan tutte. Difatti, alla fine dell'86, il grandissimo successo che Le Nozze hanno a Praga convincerà il Teatro di Praga a commissionare a Mozart un'opera, che sarà Don Giovanni, che si darà poi, per l'appunto, in prima a Praga e poi a Vienna. Quando a Vienna, nell'89, si riprenderanno Le Nozze di Figaro, tre anni dopo, di nuovo, l'enorme successo delle Nozze di Figaro procurerà Mozart la commissione per Così Fan Tutte, commissione imperiale di Così Fan Tutte. Quindi Le Nozze di Figaro non sono soltanto la prima, diciamo, di queste tre opere buffe. Non vi scandalizzate. Opere buffe, tutte e tre. Anche Don Giovanni. Don Giovanni è un'opera buffa. È un dramma giocoso, ma dramma giocoso in quei tempi significava sostanzialmente opera buffa. Chiudo questa parentesi. Ma, appunto, per circostanze storiche, Le Nozze di Figaro sono anche proprio, come dire, all'origine di questa trilogia. Allora, vi dicevo che l'idea di trarre un'opera dalla commedia di Beaumarchais è dello stesso Mozart. Chi ci racconta questo? Ce lo racconta da ponte, nelle memorie. E se ce lo racconta da ponte, ci dobbiamo credere, perché da ponte non avrebbe certamente rinunciato a buon mercato a questa paternità. E però è lui stesso a dire che una volta chiacchierando, insomma, Mozart gli chiede se sarebbe stato capace di trarre un libretto da questa commedia. La commedia era ben nota a Mozart ed era ben nota a Vienna. La commedia di Beaumarchais era data in scena il 27 aprile 1784 a Vienna, ma dopo una lunga vicenda di rinvii, scusatevi, a Vienna, a Parigi naturalmente, ma dopo una lunga serie di rinvii, censure, perché, insomma, l'opera appariva scandalosa, sia dal punto di vista, diciamo, per certi toni politici e sia anche proprio dal punto di vista della cosiddetta decenza. E poi, finalmente, ben sei anni dopo che Beaumarchais aveva terminato di scriverla, l'opera va in scena con un grande successo di scandalo. Pensate che sei mesi dopo la messa in scena in teatro, in Germania esistevano già due traduzioni in tedesco della commedia di Beaumarchais e una di queste due è posseduta da Mozart. Come lo sappiamo? Lo sappiamo perché il libro è stato trovato poi nell'ascito della biblioteca mozartiana e quindi Mozart aveva letto questa traduzione. Era quasi sicuramente stato anche nei primi mesi dell'anno successivo 1985 alle prove che la compagnia di Schikaneder stava facendo per mettere in scena appunto in teatro la commedia. È una notizia interessantissima questa perché è uno dei momenti diciamo con cui possiamo seguire il legame fra Mozart il teatro di prosa e Schikaneder come sapete Schikaneder sarà poi il librettista del flauto magico. Però quella messa in scena appunto programmata da Schikaneder non avverrà mai perché interverrà anche anche lì un divieto un divieto imperiale. Però poi a un certo punto insomma l'imperatore cambia idea da Ponte cerca di attribuirsi gran parte del merito di questo cambiamento di idea nel senso che dice sostanzialmente che è dovuto alle sue grandi abilità diplomatiche però insomma Giuseppe II era tutto sommato un sovrano tollerante come oggi c'è tendenza a vederlo da parte degli storici più avveduti e emendata la commedia di certi aspetti più velenosi contro nei confronti dell'aristocrazia si sarebbe potuto pur mettere in scena si sarebbe potuta pur mettere in scena un'opera tratta da questo libretto e di patti verso la fine dell'anno Mozart comincia a lavorare alle nozze di Figaro come lo sappiamo lo sappiamo perché Leopold il padre di Mozart scrive una lettera alla figlia in cui dice Mozart Wolfango sta lavorando alle nozze di Figaro e dice delle cose singolari un pezzo che conosco una commedia assai faticosa da trasformare molto liberamente traducendola dal francese perché l'isulti efficace come opera bisognerà lavorarci attorno e discuterne prima di ricavarne il libretto che vuole lui e ci sono un sacco di cose interessanti in queste poche frasi intanto pare di capire che a Leopold non piaccia poi tanto questa definizione è una commedia assai faticosa forse gli sembrava un po' troppo complicata e è difficile da trarre in musica ma questa è un'osservazione pertinente perché è più o meno simile a qualcosa che scrive anche nella prefazione al libretto lo stesso lo stesso da Ponte da Ponte dice che non ha potuto fare una traduzione della commedia di Paul Marchais perché e qui l'osservazione è veramente molto acuta perché i tempi e le dimensioni di un'opera di un'opera in musica sono diversi da quelli di un'opera per il teatro e lui parla proprio di quantità di materia diciamo così di materia drammaturgica e di numero dei personaggi lui dice ho cercato di ridurre un po' la materia e quindi invece di cinque atti come la commedia l'opera saranno quattro e poi ho ridotto il numero di personaggi che invece di sedici saranno undici sempre tanti ed è vero pensate che per esempio alla fine di questa trilogia Così Fan Tutte saranno soltanto la perfezione geometrica diciamo così di Così Fan Tutte vorrà soltanto sei personaggi in scena qui sono undici ma i cantanti sono dieci perché un cantante fa due parti insomma allora Mozart alla fine dell'85 è già al lavoro e poi ci lavorerà la prima metà dell'anno dopo insomma il primo maggio del 1786 l'opera va in scena il primo maggio avete sentito bene però bisogna dire che non c'era ancora stato era ben al di là da venire sia Carlo Marx che la seconda internazionale chiusa anche questa parentesi e l'opera ha successo ma i giudizi sembrano essere positivi però fatto è che l'opera sta in scena soltanto otto giorni che non è una grande misura di tempo invece il grande successo delle nozze come vi anticipavo prima sarà alla fine di quello stesso 1786 a Praga a Praga il successo sarà incredibile pensate che un mese dopo che la messa in scena era cominciata Mozart parte e va a Praga giustamente anche per godersi insomma questo successo e dice e ci racconta che in città non si faceva altro che citare le nozze e tutti andavano in giro canticchiando il farfallone amaroso non più andrai farfallone amoroso e vi ho detto che questa sarà appunto lo spunto per il lo spunto per il Don Giovanni sapete che Don Giovanni contiene una citazione poi nell'ultima scena no la cena di Don Giovanni per l'appunto di non più andrai farfallone amoroso che questa volta non sarà più rivolta insomma a un giovinetto ancora un po' indeciso diciamo sulla sua scelta nella sua scelta amorosa ma sarà rivolta probabilmente sarà un monito probabilmente per Don Giovanni e c'è pure un'altra un altro addentellato questa volta con Così Fan Tutte invece che con Don Giovanni in un terzetto nel terzetto del primo atto un pezzo meraviglioso di musica appunto il discorso sulla trascendentale socievolezza spirito di socialità mozzartiana un terzetto fra il conte Basilio e Susanna a un certo punto Basilio se ne esce con una frase così fan tutte le belle e in questo modo anticipa quello che sarà poi il titolo e anche il tema dell'ultima dell'ultima opera con da Ponte prima parlando delle difficoltà che aveva avuto la commedia di Beaumarchais ho parlato di punte velenose che erano contenute nel libretto dal punto di vista politico ecco vi leggo quella che è la pietra dello scandalo di questo testo un pezzo che è contenuto in un lungo monologo recitato da Figaro nel quinto atto Figaro dice nobiltà fortuna rango cariche tutto questo rende così fieri che avete fatto per meritare tutto questo vi siete dato la pena di nascere e niente di più è chiaro che si sta rivolgendo al conte per il resto siete un uomo abbastanza comune mentre io perbacco sperduto in mezzo alla folla oscura ho dovuto impiegare più scienza e calcoli insomma qui è chiaro che anche la tolleranza di Giuseppe II non basta più perché perché qui si sta attentando al al diritto dinastico che è il perno della legittimità del sovrano che cosa avete fatto voi niente siete semplicemente nato nel luogo giusto e nel momento giusto io sì che invece ho dovuto affermarmi nel mondo una cosa del genere è chiaro che nemmeno un sovrano tollerante può accettare e di fatti questo passo non esiste nemmeno nel nel libretto delle nozze anzi tutta la tirata di Figaro nell'ultimo atto non c'è questa tirata è sostituita da un pezzo che Figaro canta contro le donne è un pezzo misogino aprite un po' quegli occhi insomma state si rivolge a tutti gli uomini mettendoli in guardia dalle insidie delle donne e dalle insidie dell'innamorarsi tutto questo non c'è ma per capire bene il rapporto diciamo di un'opera come le nozze dei confronti della nobiltà del tempo bisogna fare due osservazioni cioè per non sopravvalutare il carattere scandaloso questo carattere scandaloso di cui abbiamo parlato la prima osservazione è che gran parte dell'aristocrazia europea del tempo e anche francese doveva certamente condividere buona parte delle idee sociali che si esprimono nel mariage de Figaro quanto poi alla nobiltà in particolare quella quella austriaca quella non si deve pensare che si tratti di un organismo compatto tutto bisogna fare almeno una distinzione fra l'aristocrazia di corte e i nobilotti di paese diciamo di provincia allora vista da questo punto di osservazione non è affatto escluso che l'aristocrazia di corte vedesse che era una certa soddisfazione e il fatto che è un signorotto di campagna legato ancora a vecchi costumi e a tradizioni ormai superate fosse sbeffeggiato in scena come avviene appunto nei confronti del conte di Almaviva perché il conte di Almaviva quello è un signorotto di campagna che crede di poter fare il prepotente e allora alla luce di queste osservazioni uno potrebbe concludere ma allora sono proprio così innocue dal punto di vista politico sociale così anacquate le nozze di Figaro di Mozart e da Ponte rispetto al mariage de Figaro certo se uno si ferma insomma al testo può apparire può accadire così ma se poi si va a vedere un po' a certi aspetti e soprattutto a come Mozart ha trattato certi pezzi il giudizio potrebbe potrebbe cambiare pensate per esempio appunto alla cavatina di Figaro che è il terzo pezzo che si canta nell'opera quindi viene cantata proprio in una delle primissime scene se vuol ballare signor Contino il chitarrino le suonerò eccetera eccetera è chiaro che già il testo contiene una presa in giro ma se vediamo come Mozart tratta musicalmente questi versi la presa in giro diventa più bruciante perché cosa sceglie Mozart per mettere in musica questi versi sceglie un minuetto allora il minuetto cioè la tipica danza di corte sembra quasi che il servo cioè Figaro dica al conte che gli vuole insegnare a ballare sul ritmo e sulle movenze di una danza che il conte conosce benissimo perché è la danza che pertiene al suo al suo titolo poi nella seconda parte dell'aria fa ancora di peggio perché il cambio il passo del ritmo cambia e interviene un ritmo di un'altra danza che è una contraddanza la contraddanza è una tipica danza popolare invece austro tedesca allora sembra di nuovo che l'impressione è che Figaro stia tracinando il conte in una danza che lo abbassa e lo umilia a un rango inferiore quindi Mozart usa in senso secondo un aspetto semantico possiamo dire quindi come un fatto simbolico significativo le danze che sta impiegando in questo pezzo se vuole ballare signor signor Contino naturalmente quando quando Figaro canta questo pezzo il conte non c'è se se vogliamo invece un un faccia a faccia eh fra Figaro e il conte in cui Figaro faccia in cui Figaro sia capace di affermare se stesso nei confronti del conte dobbiamo aspettare un po' allora questo pezzo qui vi ho detto è uno dei primissimi che si canta nell'opera se vuol ballare signor Contino il momento invece del faccio a faccia ci porta al secondo atto e ci porta a un momento di di quel grande finale il finale del secondo atto è probabilmente il più grande finale che Mozart abbia scritto per un'opera da Ponte parla di questi finali mozartiani come di una commedia nella commedia dovessimo soffermarci su quel finale dovremmo fare una conferenza dedicata solo al finale del secondo atto noi coglieremo quello che così qualche cosa che ci serve per il nostro discorso allora c'è un momento in questo in questo finale in cui appunto il Conte si rivolge a Figaro chiedendo ragione di un certo di un certo di un certo di un certo foglio anzi per la verità non è tanto il Conte il primo a chiedergli ragioni ma è un personaggio minore che si chiama Antonio e che fa il giardiniere Antonio ha visto qualcuno che si buttava che si lanciava dalla finestra noi sappiamo che è stato Cherubino a lanciarsi dalla finestra e che gli ha rovinato tutti i fiori che lui coltiva con tanta cura cadendo ha lasciato cadere dei fogli e allora siccome Figaro dice di essere stato lui a buttarsi dalla finestra perché vuole nascondere il fatto che c'era Cherubino nella stanza della Contessa gli chiede ragione di qualche cosa che ha raccolto appunto per terra e che cos'è questo qualche cosa è la patente la patente da ufficiale di Cherubino perché Cherubino l'ha fatta grossa e il Conte lo ha cacciato però non lo ha cacciato di brutto insomma promove Atur ut amove Atur lo ha mandato lontano promuovendolo ufficiale e allora questa è la patente che deve riconoscere che lui è diventato ufficiale e allora Figaro si trova molto in difficoltà insomma a spiegare perché gli fosse caduta questa patente perché ce l'aveva lui e allora Susanna e la contessa che sono lì vicine suggeriscono sottovoce mancava mancava e lui non capisce dice ma mancava cosa mancava il sigillo finalmente capisce questa parola e allora lì bisogna dire Figaro lavora veramente con un'arte sopraffina perché ormai sa qual è la risposta giusta però tarda tarda a dirla perché si vuole togliere la soddisfazione con il conte e il conte continua a insistere ma cos'era cos'era perché lui tergiversa Mozart a questo punto gli dà una mano perché fa in modo che la cadenza la cadenza del pezzo scocchi proprio nel punto in cui gli dice mancava il sigillo e naturalmente a questa rivelazione il conte rimane assolutamente sorpreso e rimangono sorprese anche la contessa e Susanna per la bravura e per la abilità con cui Figaro se l'è cavata in questo faccia a faccia con il conte Figaro ha avuto certamente la meglio ha avuto la meglio di astuzia e Mozart lo ha secondato dal punto di vista musicale abbiamo parlato un istante fa dell'uso che Mozart fa delle danze e comunque dello spirito della danza dal punto di vista semantico proprio per trasmettere dei significati voglio segnalarne un altro che è anche questo del più grande di grande fascino questa volta ci spostiamo nel terzo atto alla fine del terzo atto alla fine del terzo atto che cosa succede ci sono dei festeggiamenti per le nozze di imminenti le nozze di Figaro e di Susanna e per la verità anche quelle di Marcellina con Bartolo ma insomma non anticipiamo magari diremo meglio fra un po' però nel mentre che si si festeggia il conte Susanna vuol dare vuol fare dare un appuntamento al conte per la sera per incontrarlo la sera nel giardino è un inganno naturalmente perché poi non ci andrà lei però bisogna passare questo biglietto al conte il biglietto che sarà chiuso con una spilla una spilla che poi passerà a a Barbarina e che Barbarina perderà voi direte ma che pasticcio ma che confusione è così in effetti la storia e l'intreccio drammatico delle nozze di figaro sono quanto mai complicate raccontare le nozze di figaro cosa che non ci ho provato a fare come avete visto perché dopo è scontato che voi le conosciate raccontare le nozze di figaro è un'impresa niente affatto semplice perché sono veramente una struttura drammatica di grande sottigliezza e di grande complessità allora ritorniamo a questo finale di terzo atto biglietto che passa da Susanna al conte e questo passaggio avviene durante una danza curiosissima perché è un fandango è una danza di origine spagnola perché è una danza di origine spagnola perché un modo che aveva inventato Beaumarchais per cercare di evitare le critiche era di togliere diciamo di fare in modo che la vicenda non si svolgesse in Francia ma si svolgesse in Spagna quindi danza spagnola un fandango Mozart inventa un fandango meraviglioso lo sentirete chiuso fra queste marcette semplici semplici che si ascoltano lì in questo finale del terzatto a un certo punto viene fuori questa danza che nasce da un trillo quanto mai misteriosa e quanto mai sensuale e in effetti la situazione è proprio così perché attraverso quel biglietto deve passare un messaggio che il conte crede di essere un messaggio amoroso un messaggio come dire di offerta sensuale da parte di Susanna questa presenza in alcuni luoghi che vi ho segnalato dello spirito della danza nelle nostre di Figaro è legata al fatto che una delle caratteristiche principali dell'opera è quella che possiamo chiamare la corporeità in quest'opera ci si tocca ci si sfiora ci si veste ci si denuda ci si traveste il contatto fra i corpi quella intersoggettività di cui vi parlavo al principio non è soltanto una cosa diciamo che si manifesta nel dialogo nelle parole nella musica ma proprio si manifesta anche nel senso proprio dei contatti che avvengono fra i personaggi voi mi direte vabbè ma questo però è soltanto a livello di drammaturgia è soltanto a livello di spettacolo non c'entra niente con la musica non è mica vero c'entra tantissimo con con la musica ci sono dei momenti per così dire tattili nella musica delle nozze di figaro veramente sorprendenti uno è sempre in questa specie di pozzo di san patrizio che è il finale secondo del secondato dove si trova dove si trova di tutto a un certo punto si devono nascondere Susanna e Cherubino e cantano un brevissimo duetto aprite presto aprite in cui tutto questo senso della velocità del nascondersi è in realtà strettamente contenuto nella nella musica tutto passa velocissimamente dall'uno dall'uno all'altro è un pezzo che si brucia in pochissimi in pochissimi secondi un altro momento in cui la musica si fa azione per esempio è sempre sempre nel secondo atto nel secondo atto in un momento in cui Susanna traveste da donna traveste da donna Cherubino venite e inginocchiatevi venite e inginocchiatevi perché adesso gli deve togliere gli abiti maschili e vestirlo con abiti femminili siamo nella stanza da letto della contessa e questo è un altro di quei momenti in cui la musica stessa diventa diventa azione perché è un'aria cantata da un personaggio solo canta soltanto Susanna ma in realtà sembra un duetto perché Susanna si sta rivolgendo a un secondo personaggio che è Cherubino ma poi potrebbe anche addirittura sembrare un terzetto perché presente a questa vestizione e svestizione prima c'è la contessa un terzo momento meraviglioso in cui appunto la musica si investe dell'azione dell'azione scenica e quando Susanna e la contessa scrivono un bigliettino per un appuntamento al conte e allora questo qui che soavi Zeffiretti sono le parole con cui inizia questo questo duetto ed è veramente incredibile perché qui siamo in pieno settecento e in un certo senso ai limiti del come dire di un certo anche manierismo se vogliamo ma ai limiti vuol dire sempre con Mozart che quei limiti non vengono non vengono superati ma che c'è questo gioco sulla soglia sul confine e e allora che cosa che cosa si dicono questi due personaggi femminili beh si dicono l'ora in cui che deve essere scritta nel biglietto per dare l'appuntamento al conte l'ora è questa sera è il luogo sotto i pini del boschetto e poi e poi nient'altro perché perché poi il resto lo capirà ed è incredibile come questa questa parola il capirà circoli fra i due personaggi e che si scambi fra i due quasi fosse un modo con cui i due si danno il fiato è come un respiro che circola fra i due personaggi in una specie di movimento ipnotico un movimento ipnotico che ci fa dimenticare quanto quelle parole il capirà dovessero tutto sommato dispiacere alla contessa perché perché si sta scrivendo un biglietto finto naturalmente però insomma finto con cui Susanna dà un appuntamento al conte quello di cui vi parlavo prima quello che poi sarà sigillato dalla spilla e che vuol dire il resto lo capirà che non c'è bisogno di dire altro basta dire l'ora e dire il luogo poi si capisce che cosa succederà lì ma insomma per la contessa queste sono certamente insomma parole che debbano costituire insomma un qualche dispiacere interiore perché la contessa sa benissimo che il conte fa la corte a Susanna e insomma non è che sia particolarmente felice di questo ecco questi per citarvi alcuni momenti in cui la la musica si investe dell'azione la musica diventa essa stessa movimento movimento è una cosa che voglio sottolineare è anche la cifra di vivacità complessiva all'interno della quale le nozze di Figaro si svolgono questa cifra di vivacità la folgiournée è il titolo della commedia di Beaumarchais bisogna accoglierla immediatamente nell'ouverture qualche d'uno dice l'ouverture delle nozze di Figaro non ha nessun legame musicale con il resto dell'opera pensate all'ouverture di Così Fan Tutte è contenuto il motto Così Fan Tutte che poi ripeterà alla fine dell'opera Don Alfonso quindi lì c'è proprio una citazione musicale di qualche cosa che poi si ascolterà nell'opera niente di tutto questo nelle nozze ma dire che l'ouverture non rendete a che fare con con l'opera sarebbe un colossale errore sarebbe una colossale svista perché perché in realtà è lo spirito dell'opera che è catturato dall'ouverture l'ouverture va staccata a un tempo velocissimo cosa che ahimè non tutti i direttori d'orchestra fanno perché questa cifra della velocità della rapidità con cui si devono svolgere gli avvenimenti e con cui si deve vivere la vita nell'opera deve essere stabilita una volta per tutte all'inizio e si deve creare un collegamento ideale ma nemmeno tanto con il finale dell'opera le ultime parole che canteranno insieme tutti i personaggi corriano tutti corriano tutti a festeggiare altro pezzo alla fine che si deve staccare a un tempo velocissimo perché lì si chiude l'arco e la parabola che era stata annunciata all'inizio dall'ouverture quindi l'ouverture non ha come dire vicinanze tematiche con nessun pezzo dell'opera ma ha una vicinanza spirituale di contenuto profondissima con tutta l'opera mi è capitato tante volte di dire citando qualche episodio la contessa e Susanna Susanna e la contessa questa alleanza femminile tra Susanna e la contessa è una delle cose più affascinanti che c'è non soltanto nelle nozze di Figaro ma in tutto il teatro di Mozart è un'alleanza che come capite benissimo supera oltrepassa completamente le sfere dei ceti sociali e le sfere di classe Susanna è la serba e però si stabilisce un'alleanza fra questi due personaggi femminili il colmo di questa realizzazione è appunto quel meraviglioso duetto che vi citavo prima che è soave Zeffiretto da questa alleanza si potrebbe dire che chi trae più alimento in un certo senso è proprio la contessa alla contessa nell'opera sono dedicate due arie una è l'aria con cui inizia il secondo atto anche qui una variante rispetto al libretto di insomma alla commedia di Beaumarchais perché invece nella commedia di Beaumarchais la contessa compare già nel primo atto insomma senza particolare risalto Mozart e da porta invece danno un enorme risalto a questo personaggio chiamandola chiamandolo a inaugurare il secondo il secondo atto e la contessa compare nella sua stanza nella sua camera da letto e canta un pezzo in cui si rivolge ad amore porgi amor qualche ristoro è curioso questa personificazione di amore ma ci torneremo subito perché è uno dei temi di cui voglio parlare porgi amor qualche ristoro non è l'unica volta nell'opera in cui ci sono questi ci si rivolge appunto all'amore come personificazione e lei si rivolge all'amore perché è la donna offesa insomma non è più la rosina del barbiere di Siviglia che è la prima opera della trilogia questa volta di Bomarche non di da ponte sono passati degli anni il conte non sembra amarla più come una volta tant'è vero che fa la corte a a Susanna se poi passiamo alla seconda aria quella che canta nel terzo atto dove sono i bei momenti l'inizio dell'aria sembra ricordare la prima ma c'è questo stesso tono di enorme purezza una purezza che va sottolineata perché è la qualità del personaggio che le consente alla fine dell'opera di perdonare come vedremo quindi la prima parte dell'aria assomiglia in un certo senso alla prima aria che ha cantato melodia levigatissima una certa immobilità ma poi c'è una seconda parte dell'aria una seconda parte dell'aria propositiva invece in cui in cui la contessa pensa di poter riconquistare il il suo amore perduto e dietro questa rinnovata o questo dietro questo rinnovato carattere volitivo e di azione possiamo giustamente vedere il contributo della carattere pratico di di Susanna che ne inventa sempre una e che sa sempre come cavarsela dalle situazioni più più complicate ma insomma avrete capito che il tema principale dell'opera il tema principale è l'amore anzi le nozze di figaro si potrebbero veramente definire una fenomenologia dell'amore che vuol dire fenomenologia dell'amore una messa in scena di una estrema varietà di possibilità di di amore è quello naturalmente giovane fresco è del tutto lecito fra Susanna e figaro quello di cherubino che non sa bene qual è il suo oggetto l'amore offeso eh di della contessa e tutto sommato anche l'amore del conte perché dico questo e non ho invece soltanto accenti come dire di di rimprovero nei confronti di questo amore del 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 conte che corre dietro insomma a Susanna peraltro promessa sposa in quello stesso giorno al a Figaro perché c'è un momento nell'opera in cui potremmo pensare insomma che Mozart voglia riscattare in qualche modo questo questo personaggio ed è un momento nel terzo atto quando Susanna ha fatto credere al conte che finalmente cede ai suoi desideri e quindi verrà all'appuntamento con il conte sotto i pini del brochetto verrai si non lo dimenticherai no poi c'è confusione i si e i no si scambiano insomma comunque Susanna che sta preparando un inganno finge che ci sta e il conte comincia a assaporare questo momento però appena uscita Susanna incontra Figaro e gli dice hai già vinto la causa hai già vinto la causa la causa con Marcellina ma insomma adesso non stiamo a complicare le cose vuol dire semplicemente ho risolto tutto io il conte sente questo e dice mi stai prendendo in giro e quindi capisce che si tratta di un inganno e reagisce ecco reagisce con una con un tono che certamente perlomeno all'inizio di questo di questo brano sembra quello del nobile offeso Mozart inizia con un gesto musicale che ricorda una delle sue più celebri sinfonie la sinfonia Hafner con un tono veramente perentorio tra l'altro nella stessa tonalità di re maggiore eccetera eccetera poi però mano a mano che il pezzo procede ci accorgiamo che non è soltanto il nobile offeso che qui si ribella ma è l'amante che si crede tradito insomma l'amante che soffre al pensiero che non sarà fra le sue braccia insomma l'oggetto dei suoi desideri ma sarà fra le braccia di un altro e quindi ci accorgiamo che anche il conte entra a far parte a buon diritto in questa fenomenologia dell'amore quindi eros è il personaggio principale del se vogliamo dell'opera un personaggio che però dobbiamo vedere per così dire come influenza il comportamento di tutti quanti invece chi ha preso molto sul serio questo fatto che le nozze di figaro siano una fenomenologia dell'eros è stato un regista tedesco che si chiama Klaus Gutt che nel 1200 nel 2006 a Salisburgo ha dato una rappresentazione una messiscena dell'opera in cui quest'eros si è personificato adesso siccome anche perché immagino che sarete stanchi di aver sentito tutte queste chiacchiere e ancora neanche un briciolo di musica allora vi faccio vedere un pezzettino e naturalmente anche ascoltare la musica il pezzettino e la musica è quello che riguarda la prima aria che canta Cherubino di cui ancora non a caso non vi avevo parlato e non so più cosa so cosa faccio ecco guardiamo che cosa succede in questa in questa messiscena vi ricordo la messiscena di Klaus Gutt la regia di Klaus Gutt l'opera è 2006 Salisburgo dirige l'orchestra Arnon Kur e Cherubino è Christine Schaeffer allora avete visto che appena l'aria comincia compare questo personaggio che è una specie appunto di personificazione di amore con tanto di alucce dietro le spalle e appare vendato sia amore che Cherubino con metafora fin troppo insomma evidente immagino l'amore è cieco poi nel caso di Cherubino l'amore è ancora più cieco perché perché appunto Cherubino non sa dove indirizzare il suo amore è innamorato di tutte di tutte le donne è innamorato dell'amore avete visto che c'è un altro simbolo anche per terra si intravede una mela non oso nemmeno suggerire insomma il pomo la mela che cosa a che cosa potrebbe alludere questa presenza ecco di questo angioletto incombe in tutta in tutta l'opera l'altro personaggio che c'è in scena è Susanna che è qui è l'Anetrebco e vabbè bisognerebbe sempre insistere con i registi di non stare a riprendere proprio dei primi piani così così diretti così vicini insomma dei cantanti quando cantano poi qui diciamo il bel volto dell'Anetrebco però insomma forse la Sheffera avrebbe meritato un trattamento più più garbato e che Sheffera peraltro che canta peraltro benissimo questa quest'aria è una grande stilista è una che è passata da la passione secondo Matteo a cantare Lulu è stata probabilmente una delle più grandi Lulu degli ultimi degli ultimi anni ecco quella presenza di questo Eros incombe come avete visto qui incanta i tre personaggi fa dei gesti magici attorno a Susanna va bene però Klaus Goode è un regista che va preso con assolutamente con molto rispetto e gli si deve quello che io personalmente penso che sia il più bel e il più sconvolgente soprattutto Don Giovanni degli ultimi degli ultimi anni Eros dal punto di vista dell'Eros si potrebbe stabilire un paragone fra anzi è stato sempre stabilito un paragone fra Don Giovanni e Cherubino Cherubino è apparso anche a Kierkegaard che ha scritto pure pagine certamente notevoli su Cherubino è sempre apparso come un piccolo Don Giovanni io penso invece che naturalmente questo è vero insomma però che ci sia qualche cosa di più profondo che avvicina Don Giovanni a Cherubino ed è il fatto che si tratta di nature eminentemente teatrali sia Don Giovanni che Cherubino sono un massimo di psicologia al limite di psicanalisi ma un minimo di realtà un minimo di realismo guardate questo equilibrio come dire inverso fra psicologia e realismo non è affatto raro nelle opere di Mozart pensate a certi personaggi per esempio Antonio che citavo prima Antonio è certamente un minimo quasi a livello zero di psicologia è un massimo di realtà certamente è un personaggio che sa di realismo Don Giovanni e Cherubino invece non si possono confrontare con personaggi reali sono saturi totalmente impregnati di di teatro e Kierkegaard diceva che Cherubino non si destra al movimento ma alla quiete silenziosa vabbè l'esempio di prima non è proprio i più pertinenti perché il tempo staccato da Arnon Kür non era dei più felici secondo me questo pezzo andrebbe staccato in modo molto più vivace però non mi sembra giusto se c'è invece un personaggio al quale si addice la cifra del movimento dell'irrepetezza dell'argento vivo addosso è proprio Cherubino Cherubino è l'amore indeterminato è l'amore che non sa come collocarsi l'altra aria che canterà nel secondo atto voi che sapete che cosa è l'amore si rivolge praticamente a tutte le donne anche se si sta rivolgendo di fatto alla contessa e a Susanna per le quali canta questa serenata sarà il manifesto della sua come dire del del suo desiderio di amore ed è ed è molto ed è molto curioso perché è una specie di amore dell'amore che non ha che non ha oggetto un sentimento che ricorda molto da vicino qualche cosa che di lì a qualche anno comparirà nella cultura del romanticismo tedesco e che i tedeschi chiamano Zenzucht che vuol dire nostalgia di qualche cosa ma vuol dire sostanzialmente nostalgia della nostalgia è una parola intraducibile nel nostro vocabolario beh questo desiderio del desiderio desiderio indeterminato desiderio che non ha oggetto di Cherubino che è certamente uno dei personaggi più straordinari che Mozart abbia inventato per il teatro ricorda molto da vicino questo sentimento romantico soprattutto nell'aspetto della forma con questo voglio dire che ci sono dei momenti pre-romantici nelle nozze di Figaro direi di no io sono sempre dalla parte di un Mozart settecentesco di un Mozart che poi l'addizione di pre-romantico devo dire non mi è mai molto piaciuta perché insomma significa sempre qualche cosa che ancora non è perfettamente compiuto è pre- qualche cosa che si compierà dopo e invece con Mozart tutto è perfettamente compiuto tutto si realizza così come la sua musica ce lo ce lo rappresenta prendiamo per esempio uno dei momenti più belli dell'opera è uno dei momenti in cui si manifesta più intensamente questo principio dell'eros che la domina dal principio alla fine ed è l'aria che canta Susanna un po' prima del finale del quarto del quarto atto devieni non tardare altra aria che ha un recitativo che la precede la contessa il conte Susanna hanno tutte delle aree precedute da un recitativo è un segno di importanza ed è un segno di importanza che giustamente Mozart non concede soltanto ai personaggi nobili dell'opera il conte e la contessa ma concede anche a Susanna che è la serva ma che ha come dire una statura nell'opera che prescinde completamente dal suo ruolo una cosa che del resto come vi ho detto prima la contessa capisce benissimo tanto è vero che si allea con lei in questa in quest'aria da Vieni non tardare si manifesta anche sapete un'aria che Susanna finge di cantare per il conte e quindi serve a ingelosire Figaro ma in realtà la sta cantando per Figaro solo che Figaro è un po' duro e non non capisce anzi si ingelosisce ma poi avrà anche lui quello che si merita ed è un'aria piena di di volutà piena di piena di desiderio è un momento di grandissima pienezza di sé ed è anche un momento di grande accordo con la natura una natura che nell'aria Susanna evoca con i suoi con i versi che sta che sta cantando perché l'aria si svolge in un giardino il giardino che poi il boschetto dei pini di cui parlavamo prima che poi accoglierà l'ultimo l'ultimo finale dell'opera quindi è un momento di grande pienezza è un momento di estasi ed anche di grande fusione con con la natura uno dei rarissimi momenti nella musica di Mozart in cui la musica in cui la natura ha un ruolo soltanto il domeneo ha momenti in cui la natura ha un ruolo importante nella musica di Mozart altrimenti la musica di Mozart è quasi sempre una musica della città una musica urbana è una musica di rapporti fra le persone è una musica della socievolezza trascendentale come come vi dicevo prima questo invece è un momento veramente di grande accordo con la natura beh ci aspetteremmo che qui ci sia qualche cosa di preromantico non c'è nulla di preromantico anzi la cosa veramente sorprendente di questo brano è che questo senso di pienezza questo senso di grande accordo con la natura sia del tutto privo di presagi ottocenteschi beh insomma siamo vicino al finale dell'opera e anche al finale della mia chiacchierata e su questo finale invece un poco di più vorrei soffermare perché è certamente uno dei momenti più alti di tutta di tutta la musica di Mozart tantissime altre cose avrei voluto avrei voluto dirvi per esempio avrei voluto sottolineare di più certi momenti in cui Mozart va oltre la stessa drammaturgia che sta in quel momento inventando va oltre in che senso va oltre con la musica che scrive pensate a Barbarina che simmetricamente a come era venuto con la contessa che apriva il secondo atto apre il quarto atto con un'aria con una solo con un'aria da sola Barbarina sta cercando la la spilla che ha perduto e canta un pezzetto brevissimo accompagnato dai soli archi quindi altro che recitativo lì siamo veramente a livello minimo il personaggio è il personaggio come dire uno dei personaggi assolutamente minori dell'opera e Mozart le dedica questa paginetta una paginetta che rappresenta appunto il dispiacere di questa ragazzina una ragazzina veramente alla prima a Vienna a cantare era la dodicenne a Nina Gottlieb quella che cinque anni dopo canterà Pamina nel flauto magico quindi aveva dodici anni e canta questo pezzo questo pezzo è un pezzo di incredibile dolore di incredibile sofferenza ben oltre quello che sarebbe stato necessario per le esigenze drammaturgiche c'è un altro momento nell'opera che vi voglio citare e che assomiglia da questo punto di vista a questo ed è quando sempre nel famoso finale del secondo atto Susanna la contessa e Figaro si rivolgono al conte dicendo De Signor non contrastate ormai insomma bisogna decidere di queste nozze e che la smetta Figaro è il conte di mettere ostacoli e allora cantano un pezzettino in cui dicono De Signor non contrastate i nostri desideri a questo canto si unisce anche il conte che però dice tutt'altro ebbene questo canto a tre poi in realtà è un quartetto perché canta anche il conte assume delle dimensioni di preghiera di implorazione dolcissima semplicissima ma con una perfezione che rasenta veramente il sacro che è ben di più di quanto l'esigenza drammaturgica avrebbe richiesto cosa voglio dire voglio dire che ci sono momenti in cui Mozart va così a fondo coglie qualche cosa di così profondo delle cose di cui ci sta parlando e di cui la scena ci racconta che la sua musica dice molto di più di quanto sarebbe necessario dire dal punto di vista della drammaturgia beh qualcosa del genere è quello che avviene nel finale il finale è il finale del perdono come sapete insomma la storia delle nozze di figa credo che la conosciate tutti in questa barahonda che è il finale nel giardino tutto quello che è avvenuto ci sono stati dei travestimenti la contessa e Susanna si sono scambiate da abito quindi il conte ha creduto di corteggiare Susanna ma in realtà corteggiava sua moglie e Figaro ha creduto di corteggiare la contessa in realtà se ne è accorto quasi subito e ha fatto finta e aveva a che fare con Susanna però il conte vede Figaro e quella che crede sua moglie insieme e allora va su tutte le furie perché come ci ha spiegato la contessa un po' prima lui le fa di cotte di crude però è gelosissimo della moglie e allora tutti gli altri escono da questo boschetto si manifestano dicendo perdono perdono e lui no 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 sul più bello esce la contessa quella che il conte credeva in realtà Susanna ma si svela come la contessa e dice almeno io per loro perdono otterrò però prima lo sentiamo e poi vi dico qualche parola diciamo di commento questa volta lo sentiamo quella che io credo che sia la più bella edizione che esiste ancora delle nozze anche se ha molti anni è quella diretta da Giulini è molto bella anche quella diretta da Abado bisogna dire ma insomma sono più affezionato a questa questa è diretta da Giulini qui la contessa Elisabeth Schwarzkopf insomma e poi tutti gli altri e suonano i Wiener Sinfoniker ecco adesso capiamo fin in fondo a che cosa era finalizzato l'eros e l'amore che attraversa tutti i personaggi dell'opera era finalizzato alla felicità chi ha capito meglio di tutti questo è stato Massimo Mila che appunto scrive sulle nozze di Figaro e scrive sulla ricerca della felicità solo che Massimo Mila pensava che per Mozart l'aspirazione alla felicità fosse la ricerca di un diritto naturale alla felicità e invece per quanto appunto debba riconoscere che Mila sia stato il primo a centrare questo punto fondamentale di quello che io chiamerei proprio l'umanesimo mozzartiano e cioè il tema della felicità di questo diritto ecco su questo diritto naturale alla felicità io avrei qualche cosa da dire perché che cosa ci rappresenta quest'ultima scena che non c'è un diritto naturale alla felicità ma che la felicità è il frutto perlomeno in questo momento perlomeno in questa situazione delle nozze è il frutto di un gesto di generosità da parte di un personaggio ed è quel personaggio che si è che si è presentato diciamo sotto l'aspetto della purezza come vi sottolineavo prima e cioè il personaggio della contessa che possiede questa purezza che è soprattutto purezza di canto purezza di vocalità purezza di linee che le dà le consente di poter perdonare il conte e però anche l'impressione che abbiamo è di poter perdonare tutti in questo finale in questo finale delle nozze qui quello che dicevo prima che la musica va ben oltre l'esigenza della drammaturgia è al culmine avete sentito appunto come dopo le parole di perdono della della contessa si levi un canto di tutti i personaggi che sembra veramente una preghiera di ringraziamento e che sembra veramente la discesa in terra di un paradiso che però è un paradiso tutto costruito dagli uomini tutto costruito dai personaggi dove non c'è un'ombra di metafisica si sono sollevate due obiezioni su questo finale una è dovuta a un grande filosofo del del novecento che si chiama Ernst Bloch e che sapeva tantissimo di musica e che in una sua opera immensa che si chiama il principio speranza solleva un'obiezione su questa richiesta di perdono da parte del conte e il perdono concesso dalla contessa dice che c'è un'ombra di sentimentalismo guardate dobbiamo prendere molto sul serio questa obiezione di un filosofo così acuto e così sensibile ai valori musicali come Ernst Bloch perché Bloch dice questo perché quando Bloch scrive questo diciamo gli anni fra il 30 il 40 il 50 del 1900 l'idea che esistesse quello che vi ho citato prima cioè qualcosa che possiamo chiamare l'umanesimo mozzartiano era assolutamente estranea nessuno aveva in mente una cosa di questo genere e ancora insomma era fiorente l'idea del Mozart genio fanciullo e il mito della ingenuità e della fanciullezza mozzartiana insomma qual era la verità e che Mozart non si riusciva a prendere veramente sul serio neanche nei momenti in cui la musica toccava vertici più alti l'altra obiezione è un po' più diffusa ed è va bene sì adesso qui c'è questo grande perdono c'è questo meraviglioso corale di ringraziamento di tutti i personaggi però insomma domani sarà la stessa storia il conte continuerà ad andare appresso dietro le gonnelle la contessa vivrà nella sua malinconia nella malinconia del suo amore offeso come l'abbiamo chiamato prima e tutto ricomincerà da capo cioè la pacificazione è questione di una sera guardate questo è del tutto come dire non si deve fare è un'operazione vietata quella di come dire inventarsi un seguito ai capolavori è un'operazione assolutamente vietata nell'estetica ma vorrei dire anche nella morale l'opera finisce quando si chiude il sipario l'opera finisce sull'ultimo re dell'orchestra l'opera finisce come avete sentito su questo corriantutti che è l'espressione della felicità dei personaggi nessuno deve pensare di saperne più di Mozart su come poi andranno veramente a finire le cose Mozart chiude su quello e guardate che è un messaggio che non deve essere travisato perché questo messaggio di felicità di una felicità possibile è un messaggio che è stato travisato da tantissimi cioè tanto per fare un esempio c'è una bella un bello scritto di Fedele D'Amico di presentazione delle nozze di Figaro per una messa in scena in cui anche lui alla fine però parla di un Eden sognato di un mondo che non esiste ma non è così perché quelli che vediamo alla fine non sono i rappresentanti di un'umanità ideale come potrebbe essere per esempio per per Beethoven quando Beethoven vagheggia di una felicità Beethoven sta pensando in termini idealistici a una felicità che possa riguardare tutta l'umanità a un respiro che possa accogliere tutta l'umanità per Mozart non è così la felicità a cui sta pensando e che sta mettendo in scena nel finale nelle nozze è una felicità che riguarda quelle persone il conte la contessa Figaro Cherubino cioè i personaggi che abbiamo visto agitarsi nella scena rapportarsi in quelle tre ore quanto dura lo spettacolo ma sono loro per così dire in carne in carne d'ossa non sono i rappresentanti di una ideale una rappresentazione ideale dell'umanità e la felicità a cui stanno pensando e che pensano di poter vivere non è una felicità che è il ritorno a un Eden ormai diventato inaccessibile e lontano ma è una felicità che si immaginano possibile in qualche luogo di questa terra ma direi che con questo possiamo chiudere grazie grazie dopo altro che chiacchierata questo è appunto un'alex magistrale sull'ossi di figaro abbiamo indagato ma non come il detective ma come come il filosofo come il musicologo come lo storico sotto una miriade di punti di vista all'opera per poi arrivare a questa conclusione felice e per riconsegnarci in qualche modo il rapporto con con quest'opera mi limito a dire che potrete ritrovare diversi delle considerazioni che Ernesto Napolitano ha fatto qui anche nel programma di sala e oltre a ricordarvi che l'opera felicemente vede il teatro molto gremito per undici recite ci saranno anche due recite riservate alle scuole ai bambini ai ragazzi in un nuovo adattamento firmato da Vittorio Sabadin per cui anche 3.000 giovani vivranno la folle giornée di Figaro e compagni buon divertimento e alla prossima grazie 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 grazie